Andrea Giordano va agli italiani dopo aver conquistato la qualificazione, i migliori di 4-3 di Italia si sfidano, per cui una missione molto importante anche in ottica nazionale. Sì, ovviamente siamo riusciti a qualificarci per questo importante obiettivo che all'inizio della stagione non era alla nostra portata, almeno non credevamo che lo fosse. Alla fine abbiamo partecipato alla tappa di Napoli, ci sono 4 tappe in tutta Italia per potersi qualificare alle finali nazionali, abbiamo affrontato due avversari, un abruzzese e un campano, abbiamo vinto entrambi i match e ci siamo ritrovati proiettati verso questo importante traguardo che se arrivasse coronerebbe una stagione sportiva non indifferente. Sì, una serie di risultati molto importanti, quelli che avete fatto negli ultimi tempi, ma anche perché un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda Andrea, visto che ha vinto quasi tutti gli incontri che ha disputato nella sua carriera. Eh sì, Andrea ha iniziato la carriera agonistica praticamente un anno e mezzo fa e adesso ha un curriculum di 12 match e 11 vittorie, l'unica sconfitta è arrivata in finale ai mondiali di ottobre che però comunque ci ha consentito di portare a casa la medaglia d'argento. Sì, quindi una cosa molto importante, chiedo quindi al protagonista Andrea Giordano di questa missione come ti senti per questo importante appuntamento, anche perché c'è stato un infortunio, non ha affermato la voglia di prevalere in questa gara e ci sarà interrata Magnola. Sì, ci siamo preparati soprattutto per l'esordio in contatto pieno, è andato bene subito due vittorie su due match e poi purtroppo c'è stato l'infortunio però siamo riusciti a superarle, adesso abbiamo a giugno le finali per il campionato. Quindi avrai di fronte a te i tre migliori atleti d'Italia, visto che sarete in quattro, li conosci già, sai come sfidare, gli studi gli avversari? Diciamo che li studia il maestro e poi la strategia, cioè costruisce la strategia per affrontarli al meglio. Quindi sei carico a questo appuntamento per cercare di conquistare anche questo importante a loro? Sì, sì, siamo concentrati, diciamo che siamo concentrati. Quindi notti insonni per studiare gli avversari oppure sono stati più tranquilli? Beh, proprio notti no, però passato parecchie giornate siamo riusciti per fortuna ad ottenere i video degli avversari mentre proprio si preparavano, mentre affrontavano le rispettive tappe, quella del nord, del sud e del centro Italia. Quindi sono riuscito a vedere all'opera questi atleti veramente di buon livello ma mi permetto di dire non proibitivi. Quindi ci siamo studiati a dovere, chi ci toccherà lo sapremo venerdì sera e da lì ci prepareremo. Grazie.